Tra lo stupore, l'ammirazione e l'emozione di tanti cittadini di Agropoli e vacanzieri, il progetto Genesi del Parco Floviale del Testene sta riscuotendo tanti consensi. La parola d'ordine che viene prima di tutto è il rispetto per questo posto e la valorizzazione dello stesso attraverso azioni quotidiane che ogni cittadino potrà svolgere per tutelare questa risorsa importante per la città. Gerardo Scott è stato l'anima di questa idea, però ad Agropoli abbiamo costituito un'associazione che si chiama Associazione Nita, che è un'associazione che si occupa dell'ambiente, guardie ambientali, degli animali e quindi questo è il primo progetto che mette in campo, quello proprio che vuole sottolineare un concetto chiaro, il fiume è vivo e questo concetto mi è piaciuto quando mi è stato proposto perché ha una visione completamente diversa e un approccio completamente diverso dal punto di vista ambientale e le immagini di tante persone che si fermano a guardare gli animaletti che sono oggi nel fiume Testene testimoniano il fatto che probabilmente l'approccio è quello giusto, un approccio che dà una sensibilità diversa verso l'ambiente. Tante saranno le specie animali che saranno restituite al fiume Testene che andranno anche a migliorare la qualità del luogo. 40 sono attualmente i germani reali, 3 adulti e 37 cuccioli che sono stati inseriti nei giorni scorsi e che già si sono ambientati all'habitat del fiume. Vogliamo che questo progetto sia una genesi delle coscienze umane, questo il messaggio di Gerardo Scotti che crede fortemente nell'iniziativa. Da un mesetto è nato il progetto genesi, con il progetto genesi intendiamo riportare nel fiume tutte le specie selvatiche che esistevano e adesso sono sparite, pesci, volatili e altri animali tipo il riccio. Abbiamo fatto anche un ambiente per mettere proprio questi animali in libertà quando vengono catturati nelle strade e vengono portati qua. Il progetto genesi vuole essere anche un'altra cosa perché ha trovato subito il coinvolgimento di tutti quanti, vuole essere una genesi delle coscienze, vuole essere una genesi di coscienza verso la natura, verso il rispetto della natura che ci restituisce sempre e in tutti i casi quello che facciamo. Vogliamo riportare questo luogo alla bellezza di 30, 40, 50 anni fa perché riteniamo che questa sia una risorsa e riteniamo che sia una risorsa importante per tutti quanti. Le paperelle sono il primo mattoncino per la creazione del Parco Fiumale del Testene. Per il resto, chi mi conosce lo sa, che noi siamo sempre attenti. Adesso siamo la Nita, quindi questo fiume è attenzionato da leggi speciali, è attenzionato da una convenzione di Berna che stabilisce che chi fa reati sulla fauna minore poi viene punito perché la fauna minore è proprietà dello Stato, è proprietà del Sindaco, quindi anche una sciocchezza di tirare il sasso alla papera oppure di venire a catturare una rana può avere delle conseguenze importantissime nella vita di tutti. Come minimo ci troviamo a fare cause con lo Stato 7-8 anni, quindi avviso tutti quanti di avere più rispetto, abbiamo dei numeri sui cartelli che abbiamo a posto dove potete chiamare e interveniamo in pochissimo tempo, vogliamo che sia una genesi delle coscienze, vogliamo che questo patrimonio venga usato da tutti, vogliamo che tutti quanti vengono qua e trovano una situazione bella dove in un mese siamo riusciti a cambiare. Alcuni articoli, alcuni giornali dove si parlava di fiume, del degrado, una cosa dove le persone arrivano qua e dicono ma questo posto dove era? Il Comando Provinciale della Nita, con a capo Giuseppe Di Somma, gestisce 150 comuni della provincia di Salerno, sentinelle ambientali importanti per la città di Agropoli e per l'intera provincia, per mantenere alta l'attenzione in materia ambientale e proteggere le specie animali. L'associazione è l'Aera Ambiente che è stata subito presa in considerazione dall'amministrazione comunale e il sindaco ha voluto che nascesse qui il Comando Provinciale, quindi le 158 comuni della provincia di Salerno sono tutti gestiti dalla città di Agropoli, perché grazie all'istituzione dell'osservatorio marino, che sarebbe l'organismo interno nostro che poi sta tutelando questo progetto, abbiamo il controllo del territorio. Questo ci consente anche, ad esempio come in questo caso, di avere una collaborazione con gli altri comuni dove il fiume Testene è interessato. Questo progetto è importante perché? Perché prima di tutto rivaluta il territorio e soprattutto guarda con attenzione le norme sull'ecodiversità degli ambienti. Questo era un posto abbandonato da tutti. Il signor Scotti, che ha risposto al bando comunale e ha fatto il corso per diventare un ispettore ambientale, e spero in futuro diventi anche una guardia ambientale, ha tenuto a cuore a portare all'interno dell'osservatorio marino, che è patrocinato dal Comune di Agropoli, questo progetto di rivalutare il fiume Testene e di inserire non solo gli animali scomparsi, sia della fauna e della flora, quindi sia la parte della vegetazione sia degli animali autoctoni, ma di rintrodurre anche quelli che sono magari quelli utili al sistema. Questo progetto è stato affiancato dall'osservatorio marino Unita, che tutela il mare e anche le acque bianche. Quindi siamo presenti anche col corpo di guardia, con la vigilanza, quindi è un progetto veramente interessante. Grazie. 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 Grazie.